Con l'inaugurazione oggi della mostra Mythos di Andra Vizzini, Arcos ripropone una visione dell'antico in chiave contemporanea. La produzione dell'artista di origini siciliane, ma che oramai lavora in Veneto da tantissimi anni, prende a citazione tutte le figure dell'arte classica, posso pensare dalle sculture greche, infatti ci sono tantissimi riferimenti alla civiltà greca, fino a grandi artisti come Caravaggio e Dürer, ricostruendoli, risemantizzandoli attraverso i suoi interventi. Partendo dal disegno che riprende la citazione originaria, lui interviene costruendo le linee di costruzione, creando questo ambiente che lascia la citazione fedele a se stessa e poi la interpreta attraverso i suoi interventi. Questa mostra, che rimarrà fino a febbraio, è l'ennesima scelta di Arcos di documentare la produzione a livello nazionale, andando a vedere le varie ricerche, al di là dello stile e delle linee solite del mercato.